È stato ultimato lo scorso 13 settembre il bacino di contenimento di Caldogno, realizzato per salvare Vicenza da nuove possibili alluvioni. Completate dunque entrambe le vasche, la prima è stata inaugurata lo scorso gennaio. A regime, il bacino conterrà 3,8 milioni di metri cubi d'acqua, di cui 2 milioni nella vasca a nord ai confini fra Villaverla e Dueville. Un progetto da 16,6 milioni di euro che potenzialmente, oltre alla città di Palladio, dovrebbe proteggere dalle piene anche il basso Vicentino e Padova.